Sul palco del Teatro Petrarca, 18 artisti americani che si sono esibiti in scene d'opera tratte dal repertorio italiano. È stata l'Accademia dell'Arte, in collaborazione con Oklahoma University, a presentare la serata finale dell'Opera Rezzo Summer Program. Lo spettacolo è stato realizzato al termine di un periodo di studio ad Arezzo con maestri del calibro di Mario Cassi, Lisa Reganlove e Luigi Marzola. Tantissima musica operistica, da Mozart fino a Puccini, musica italiana, interpretata da questi giovanissimi cantanti americani, ancora in fase di formazione, che sono venuti all'Accademia dell'Arte per un mese di studio. L'Italia è patria di tanta cultura con la C maiuscola. Il ricavato della serata è stato destinato a Casa Tebenin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.